Ciao a tutti, ora mi sento un po' nel pallone perché parlare davanti a tanta gente così poi non essendo neanche coordinatore non penso sia una cosa facile. Ho visto prima anche altri rimanere un po' così stretti con le parole ma io cercherò di fare una specie di discorso cercando di, come dire, passare su dei punti però senza fermarsi e annoiare. Io sono entrato nei Giovani Padani nel marzo dell'anno scorso, 2015, e devo dire che all'inizio mi sono trovato un po' strano nell'ambiente non sono riuscito ad entrare a pieno nello spirito e nel gruppo del movimento però adesso devo dire che sono molto soddisfatto di aver fatto questa scelta perché quando si entra bene nel giro andando a partecipare a gazebo, a volantinaggi fa molto piacere soprattutto avere un riscontro da parte della gente che ascolta e che magari credisce anche, come dire, condividi i tuoi stessi ideali. E inoltre è bellissimo perché si conoscono tantissime persone come tutti voi io ora non conosco ogni singola persona che c'è all'interno di questa stanza però mi fa molto piacere vedere un gruppo così numeroso e comunque delle brave persone infatti dopo con la castagnata ci scambieremo tutti delle parole, penso quindi è una cosa che fa anche piacere. Volevo far solo un... fermarmi più su un punto che bisogna riuscire a fare qualcosa per rendere più partecipi i giovani ad entrare nel movimento perché come io mi sono trovato un po' in difficoltà ad entrare all'interno di tutta questa grande famiglia bisognerebbe cercare di fare qualcosa per rendere più semplice l'ingresso dei giovani o comunque coinvolgerli in modo diverso per aumentare un po' l'affluenza al movimento io non ho nient'altro da aggiungere, vi ringrazio Padania Viva! 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 Viva!